Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di legge di Ohm generalizzata, una derivazione della legge di Ohm normale, quindi la classica Vr per I, però estesa al calcolo della tensione tra due punti di un ramo del circuito in presenza di un generatore di tensione e di un resistore. Qui abbiamo i due punti tra i quali vogliamo trovare la tensione AB, quindi vogliamo trovare la tensione AB e in questo caso appunto a seconda di come circola la corrente nel circuito ovviamente dovuta a quanto c'è all'esterno, non necessariamente dovuta al generatore di tensione, a seconda di come è girato il generatore di tensione e come circola la corrente si presentano questi quattro casi. Quindi vedete corrente comunque concorde a quella che crea il generatore di tensione, corrente discorde e così via a seconda appunto delle varie combinazioni possibili. Andiamo a vedere questi quattro casi nel dettaglio e poi vediamo che in realtà la legge di Ohm generalizzata può essere affrontata tranquillamente anche col secondo principio di Kirchhoff perché diciamo il secondo principio di Kirchhoff è semplicemente un'estensione di questa di questa somma delle tensioni quindi visto che si può applicare comunque ad una maglia quindi un circuito più grande va da sé che questo è una forma ridotta. Comunque è giusto per capire anche di che cosa si tratta. Ci vediamo tra un attimo. Bene, allora visti questi quattro casi supponiamo ad esempio di voler ricavare VAB, tensione tra due punti, quindi se noi andiamo a rappresentare VAB in questo modo quindi la prima lettera e dove c'è il potenziale più alto, quindi avremo la freccia su A, quindi questa sarà VAB e così in tutti gli altri rami rappresentati, quindi VAB rimane sempre in questo modo qua. Vi ricordo che se invece avessi voluto la VBA avrei dovuto girare la freccia, quindi dove trovate la prima lettera è sempre dove c'è la freccia e dov'è il potenziale più alto, sempre sul fatto che se VAB viene negativo, viene positiva ovviamente, quindi la freccia sul potenziale più alto, la coda sul potenziale più basso. Bene, ora per semplicità andiamo anche a disegnare le tensioni in verde, quindi le frecce delle tensioni sui vari resistori e generatori, così abbiamo tutte le nostre tre frecce sulle quali andiamo a ragionare. Bene, vediamo nel dettaglio. Allora, caso 1 parto sempre da B e percorro il mio ramo verso A. Se trovo le frecce dei componenti in senso, cioè con la freccia in verso opposto, metterò meno. Se invece la trovo con la freccia nella stessa direzione, quindi da B verso A la metterò col segno più. Quindi qua mi verrà VAB uguale, qua avrò meno E più VR. Ma VR posso esprimerla come R per I, quindi qua andrò a scrivere R per I. Caso 2, avrò sempre VAB uguale, qua vado da B verso A, quindi trovo E con corde, nello stesso verso, e VR anche, quindi avrò sia più E che più VR che abbiamo detto R per I. Qua avrò VAB uguale, sempre da B verso A, trovo discorde, quindi in senso opposto, sia la E che la VR, quindi avrò meno E meno R per I. E poi l'ultimo caso, VAB uguale più E meno VR, quindi E meno R per I. Allo stesso modo, facendo calcolo inverso, posso calcolare dei vari, ad esempio se voglio ricavare la I, avrò VAB, mettiamolo così tra parentesi, VAB più E fratto R. In questo caso avrò VAB meno E fratto R. In questo caso avrò I uguale, aperta, VAB più E, chiusa, fratto, poi qua avrei un meno R, quindi porto il meno qui e qua lascio R, poi qui avrò I uguale, aperta, VAB meno E, chiusa, fratto, anche qui meno R, quindi posso portare, ad esempio fare il meno qua, qua mettere più E, togliere l'R, togliere il segno da R perché portiamo sempre di sopra, quindi questi sono i quattro casi nei quali mi posso trovare e che costituiscono la legge di Ohm generalizzata. Vedete che se andate ad esaminare in realtà quando noi facciamo questa percorrenza è come se facessimo un giro di maglia, è vero che qua la maglia non c'è, c'è un ramo, però se noi andiamo a considerare la freccia che abbiamo messo che ci rappresenta VAB, come se fosse un filo che chiude, cioè nel senso, neanche un filo perché un filo non è corretto, se fosse un qualche cosa che chiude, cioè che io percorro e quindi io facesse semplicemente la percorrenza su le parti verdi, lasciando VAB, vedete che avrei esattamente questa formula. Quindi diciamo che quando voglio calcolare la tensione tra due punti che non hanno componenti diretti tra di loro, quindi devo fare un salto tra un punto e l'altro come questo ad esempio tra A e B, non so che cosa c'è intorno, io voglio trovare quella basandomi solo su questo ramo. In realtà posso fare anche un fittizio giro di maglia andando a percorrere questa freccia VAB che ho messo, quindi della tensione che voglio trovare e poi chiudendo una sorta di maglia, diciamo virtuale. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video e magari facciamo qualche esercizio di applicazione.